La scoperta del tesoro nazista, la collezione ritrovata a Monaco, potrebbe riscrivere la storia dell'arte del Novecento. La collezione non include solo dipinti del secolo scorso, ma anche quadri che risalgono al XVI secolo. In totale si tratta di 1.285 tele e 121 opere incorniciate. Alcuni dei quadri erano sconosciuti, come uno Chagall datato 1920 e un raro autoritratto di Otto Dix. Quando sei di fronte a queste opere che si ritenevano fossero scomparsi o distrutte, la sensazione di gioia è incredibile. Sono in condizioni relativamente buone, alcune di loro sono sporche, ma non danneggiate. Un tesoro dal valore di oltre un miliardo di euro, accumulato da Hildebrand Gurlitt, a cui i nazisti affidarono il compito di venderlo. Opere trafugate ai collezionisti ebrei che Gurlitt figlio ha tenuto nascoste, vendendone una ogni tanto. Erano scomparse da 70 anni, al alcuni quadri erano esposti nei musei tedeschi fino al 1937, poi rimossi perché il Terzo Reich considerava impressionismo, cubismo e modernismo arte degenerata.